Non puoi vedermi. Sono infinito. Posso essere veloce o lento. Che cosa sono? Sono il tempo. Colui che ti sta accanto in ogni tuo momento, in ogni istante, per tutta la tua vita. Sono con te quando sei felice, quando stai passando dei momenti belli o addirittura meravigliosi da solo, o meglio ancora con qualcuno. Ma in quei momenti, giuro, non lo faccio apposta. Scorro molto velocemente. Forse anche troppo. Viceversa, vado lentamente, troppo lentamente. Quando stai aspettando qualcosa o qualcuno. Qualcuno che magari non vedi l'ora di rivedere. E una volta insieme vorresti che io mi fermassi. Cerchi di fregarmi pensando che basti non guardare l'orologio. Eh no, mi dispiace ma non funziona così. Mentre scorro, sono colui che ti aiuta anche a cercare le risposte ad alcune domande che ti poni. Non posso dirti quanto mi ci vorrà, ma prima o poi, le risposte che cerchi arrivano. Ma non mi posso assumere la responsabilità delle risposte che riceverai. Potrebbero piacerti, come anche noi. E in quest'ultimo caso mi trasformo. Mi trasformo in una cura. Una cura che ti possa aiutare a sopportare e a superare il dolore o anche una paura provocata da alcune esperienze che hai dovuto passare. Il dolore di un tradimento, la perdita di qualcuno, una presa in giro, una delusione. O, riferendoci alle paure, la paura di poterti fidare davvero di nuovo di qualcuno o di aprire il tuo cuore ad una nuova persona, dopo che è stato ferito troppe volte, immeritatamente. Con me accanto, riuscirai a superare tutto ciò. Ma non dovrai mettermi fretta. Non potrò farti dimenticare tutto. Perché dentro avrai sempre una cicatrice o una ferita che non si rimarginerà mai. Ma ti avrò sicuramente aiutato a rialzarti e con un passo alla volta ricominciato a vivere. Portando dentro di te una nuova lezione che hai imparato dal tuo passato. C'è solo una cosa che ti chiedo di fare per me. Non sprecarmi. Non sprecare il tuo tempo. Per cose o soprattutto persone che non meritano. Ma condividimi con chi veramente ne vale la pena. con chi ti vuole veramente bene. Perché ricorda una cosa. Io sono infinito e ci sarò per sempre. Ma sia tu, sia le persone che ami, prima o poi, si separeranno da me. Ma sia tu, sia i tu, sia i tu, sia i tu.